Per molti Maria Milo probabilmente si sarebbe potuta salvare se solo avesse avuto la possibilità di poter eseguire l'angioplastica coronarica in una struttura più vicina a Sapri. Sorpreso dell'impossibilità di poter effettuare il trattamento a ballo della Lucania, Domenico Vrenna della RSU dell'ASL. L'ospedale Vallese, ricorda, è un dea di primo livello e quindi deve essere in grado di assicurare un'angioplastica 24 ore su 24. Se questo non avviene vuol dire che non ha i requisiti per garantire il lavoro sanitario che gli è stato affidato. Sapri è un dea di secondo livello e nel caso specifico non poteva fare più di ciò che ha fatto, stabilizzare e trasferire il paziente in una struttura adeguata. In ogni caso, aggiunge, non è possibile che gli infartuati del basso salernitano per l'UGENZ debbano vagare per il territorio salernitano. Gli fa eco il coordinatore di cittadinanza attiva, Mario Fortunato, da tempo impegnato nelle lotte a tutela della salute pubblica. A Casaletto Spartano, afferma, il Sato ormai da diversi mesi ha a disposizione solo l'ambulanza con un infermiere. Cosa può fare un infermiere nel caso in cui un infartuato chiede aiuto? Niente. La cosa più grave è che Casaletto si trova a 30 minuti da Sapri, nonostante la breve distanza in linea d'area. La stessa cosa vale per tutti i comuni collinari a ridosso della Baia del Golfo di Policastro. La scomparsa di Maria Milo ha riacceso un dibattito su una questione atavica, quella della cattiva organizzazione delle strutture sanitarie ed ospedaliere nell'area più a sud di Salerno. Parlarne in questo periodo di campagna elettorale sarebbe perfettamente inutile. Probabilmente il Consiglio regionale, che sarà eletto con il voto in maggio, dovrà dare inizio alla sua attività partendo proprio dal capitolo sanità.